Perchè tu mi vedi vecchio? Vecchio no, ma non giovane. Ma tipo un tuo amico grande o più un professore? Un professore. Eh. Io non sono una brava studentessa. Vorresti che fossi la tua studentessa? Ce l'hai il fidanzato? No, ma ho un padre. Ma che c'entra? Io mica voglio essere tuo padre. Ma te che vuoi? Perché esci sempre con noi? Perché non posso uscire solo con te? Vorresti? Perché no? Non posso impedirti di desiderare quello che vuoi. I sogni non si toccano. È un no? È un mai. Non sono abituato a perdere.